Quante serate dove ce n'è come sul dirsi di tutti i gusti, abbiamo il cinema all'aperto lunedì, martedì, mercoledì con Carmine Imparato che gestisce anche il teatro Masetti a Fano, naturalmente poi abbiamo al giovedì il dialettale, la nostra rassegna dialettale che è condotta dalla FITA, la FITA è la federazione provinciale delle compagnie dialettali. Il venerdì abbiamo il nostro gruppo, il Sangostanzo Show che naturalmente quest'anno ci ha preso un po' di sprovvista perché ci hanno chiesto l'opportunità di fare sei serate, perciò sei venerdì di luglio-agosto e poi il sabato e la domenica con vari eventi musicali, culturali, dai galimberti, dai nomadi, dai comici, dai cover di Celentano, dai cover di Lucio Dalla. Insomma un programma ricchissimo di serate dove noi siamo così contenti di aver dato a questa città, a questa arena degli spettacoli secondo me anche molto validi.